Perché a una certa età, a una certa domenica, viene sempre a capo, non lo diciamo che cosa pensiamo. Dunque, negli anni 50 passarono qui dei ricercatori dell'Università di Roma e intervistarono anche dei montanari, si facevano dire delle canzoni, insomma, ci sono certi nomi, un biglietta, un pesce, un titiliare, eccetera, e lasciarono delle strobette, delle canzoni che sono, c'è un libro famoso, il Calicchi, che parla della cultura popolare e musicale dell'Italia regionale, in cui queste canzoni sono registrate. E c'era una che dice, almeno c'era l'accento, che diceva Io ho pensato, anzi, diceva così, perché chi le ha portato solo la cantavano in questo, ma si potevano pure la presenza, diceva Io ho pensato, io sono pensato, vai, che sarà solo la canzone al doppio senso, invece no. Poi ho fatto una ricerca e è uscita una canzone interessante, d'oro, purtroppo, pure questa, e in cui per la prima volta si parla dell'immigrazione, siamo nella seconda metà del senso. L'immigrazione poi ha cambiato ovviamente il nostro paese, non è che era 5.000, siamo andati a 3.000, i mestieri sono cambiati, sono spariti, andiamo qui, ma sai c'è una memoria, ma infatti mi chiedono, se c'è tanto un figlio, ma poi a parte la racchiappare, c'è stato pensato di fama, non è molto male, E all'e posto da Badena, sull'udgano venne prena, sei malata tra la Modena, noi sono qui san'tramara, bella feca via facendo solo al cima alla montagna, sapeviste che pietro li stiaveglia strafanzà, mai a te, che t'ho capito, tu ti ademmo alla barita. a che per una pallina scappa la campina la donna quando suonerà come si chiama come si chiama da un muro quando suonare il cantore la donna mi risponde il riferimento la marita niente non posso moccar ma lasciarlo passato per una pallina che la prego è tutto il corpo che Dio non fosse molto e ma non c'è la campagna che non c'è la campagna che non c'è la campagna che non c'è la campagna per la pena viene un nuato che tu non è davvero un fratello moce nasce nella porta da potesse da manare che ci mette il baglione a che buono nel rascolo nel rascolo era il mucchio dinamico da portare giù per tutta l'altra legna che poi veniva venduta e la campagna nel frascona se le carica alle spalle gli stracina fino a spalla risposta si nel tiente che tu fai per la retrina se esplosate perca sulla la bolliera e nel suo favore chiun le seconde che va sgratiata il governo segnerò e partita si sa quanto tornerà e la macchia del governo che non fa la cattà e il governo che è contese aveva messo la ferma di cinque anni capite cinquante nel giorno di migliaia si arriva per cinque anni come campavano di quale dietro e mannaggia di govern diceva un'iscici si di govern che non fa e mannaggia ma tanta tanta tantana pera tapa tarapata tasca e la pene lì le puatre il padre che te faccia campagna fa scagare troppo anziane in so crociapolia a raccogliere due cascinelle, certamente non si distrugge, non si distrugge nel vaccino. Sì, non si distrugge, non si distrugge nel vaccino. Sì, 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 non si distrugge nel vaccino. 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 non si distrugge nel vaccino.